Complice il clima pasquale a Palazzo dei Normanni, quelle appena trascorse sono state delle vere e proprie giornate di passione per la politica siciliana. Giornate che comunque, dopo la prima bocciatura in aula, con una maggioranza che fa acqua da tutte le parti, hanno portato all'approvazione del documento di economia e finanza regionale e alla proroga dell'esercizio provvisorio di un mese entro, cioè il 30 aprile. Dal bilancio di previsione depositato all'Assemblea regionale siciliana dal governo musumeci, però emergono subito numeri non certo incoraggianti per le società partecipate della regione. Emerge piuttosto una situazione di incertezza e di perdita con alcune partecipate con conti in profondo rosso. La perdita più consistente è quella del parco scientifico e tecnologico con un milione e mezzo di rosso. Segue poi quella di Airgest, la società di gestione dell'aeroporto di Trapani, che invece è di 1 milione e 300 mila euro. Tra capitale rosso e perdita d'esercizio, la società ha bisogno di 9 milioni di euro. A dover intervenire la regione azionista di riferimento con una partecipazione nella SPA pari al 99,93% delle quote sociali. Conti negativi anche per l'Ast, l'azienda trasporti siciliana, per 1 milione e 80 mila euro. Registrano utili invece la SEUS con 3 milioni, il riscossione Sicilia con 2,7 milioni e l'IRFIS con 470 mila euro. Mentre la SAS è in pareggio. Si tratta delle uniche società partecipate ad aver approvato i pre-consuntivi a fine 2017. Una situazione di incertezza che si riflette sulla contabilità della regione Sicilia.